Mattonelle sollevate e rotte, garage sporche e presi di mira dai vandali, illuminazione non sempre funzionante, erba alta persino nelle balconate, scarsa sicurezza sociale, primi piani delle palazzine, presi di mira dai ladri. Vivere nei quartieri delle 19 Newtown post-sisma diventa sempre più difficile. La manutenzione in alcuni casi è una chimera e i cittadini sono stanchi persino di denunciare. E si adattano a dormire tappati in casa per non sentire la puzza di secchi per la raccolta di rifiuti, spesso cariche e straripanti, anche nei giorni in cui le temperature sono altissime. E per non fare entrare i piccioni, che hanno letteralmente occupato gli alloggi rimasti disabitati dopo gli incendi a sassa oppure dopo i crolli dei balconi accesi di preturo. Quartieri che oggi, nel giorno dopo ferragosto, appaiono vuoti. Poche persone e nessuna voglia di parlare in una generale rassegnazione. E proprio per far fronte ai rischi igienici e sanitari, il Comune ha dato il via libera ai lavori di manutenzione di sei edifici del progetto case di sassa, messi in pericolo proprio dalla presenza di piccioni. Verranno installati fra l'altro spigli in acciaio per dissuadere i volatili dal sostare sui tetti. Come si legge nella determina dirigenziale, e dopo numerosi reclami dei residenti del progetto case e le ripetute segnalazioni della ASL, è stata verificata la presenza di numerosissimi piccioni che trovano il loro habitat con spazi di nidificazione sulle gronde delle coperture e nei sottotetti degli edifici del progetto case, causando una fecalizzazione ambientale e potenziale rischio per la salute dei residenti e dell'ambiente circostante. I lavori di manutenzione e sanificazione dei sei edifici del progetto case di sassa costeranno al Comune poco più di 42.000 euro.